Ok, siamo live. Adesso aspettiamo che si colleghino le persone. Appena si collegano gli ospiti poi cominciamo. Tra l'altro potrebbe esserci l'incursione di un gatto. Che fa parte di una delle gherilla girl. Il gatto? Un'incursione rivoluzionaria. Esatto. Non so, spero che non mi spenga tutto. Va bene, dai. Sono le 19.01. Cominciamo. Cominciamo? Sì, cominciamo. Allora, buonasera a tutte e tutti. Benvenuti a questo nuovo incontro delle donne della Porta Accanto. Io sono Elena, qua con me c'è Caterina, che come me fa parte del comitato di redazione del blog. E abbiamo due ospiti, Alessia e Francesca, che adesso Caterina ci presenta e questa sera parleremo di donne, di arte e di rivoluzione. Lascio la parola a Caterina così presenta le nostre ospiti e poi cominciamo la discussione. Vi ricordo a tutti, scusate, che nei commenti se avete domande potete lasciare nei commenti e poi appunto le leggeremo voce alta così Alessia e Francesca possono rispondere. Grazie Elena, grazie a tutte, grazie a tutti. Saluto Alessia Mammino e Francesca Toscano, che sono due grandissime professioniste, oltre che due care amiche e colleghe. Hanno goduto da subito della mia stima. Francesca Mammino è una storica dell'arte e Francesca Toscano un architetto. E sono specializzate in particolare in quelli che sono, diciamo, i fenomeni di cultura legati all'arte e all'architettura e a tutta la rivoluzione che le donne hanno apportato in questi settori. Quindi io darei la parola a loro, prima cosa per presentarsi e per raccontare un po' di sé e poi per approfondire questo tema. Che cosa è successo all'interno del mondo dell'arte e dell'architettura, in particolare negli anni 70 ma anche prima, rivoluzionato proprio da quelle che sono state le azioni portate avanti dalle donne. Ciao e grazie per essere qui. Grazie a te. Grazie a voi. Chi va? Vado io. Ok, sì. Ciao a tutti. Allora, come diceva Caterina, sono una storica dell'arte. Il mio percorso di ricerca, diciamo, è incentrato più che altro sull'arte contemporanea. Infatti vi parlerò di quella che era la condizione delle donne artiste intorno agli anni 70 o comunque nel passaggio dai 60 ai 70 per arrivare in qualche modo agli anni 80 con quello che comportano nella situazione attuale dell'ambito artistico. Non so se lascio presentarsi Francesca e magari poi cominciamo. Ok, grazie. Allora, buonasera a tutti. Io sono Francesca Toscano, sono un architetto e insegno storia dell'arte alle superiori. Quindi il mio ambito di ricerca e approfondimento è quello legato alla storia dell'architettura e alla storia dell'arte. Vi parlerò di due donne straordinarie nell'ambito dell'architettura che per entonomasia è un ambito, anche ai giorni d'oggi, un ambito molto maschile. Quindi due donne che in ambiti e in anni molto particolari, gli anni 20 e gli anni 50, hanno agito con i loro progetti, con il loro agire architettonico, rivoluzionando il mondo dell'architettura e anche il mondo che noi adesso viviamo e vedremo come. Grazie, grazie. E effettivamente uno degli argomenti è proprio il fatto, il contesto dell'arte e dell'architettura che è sempre stato prevalentemente dominato dal genere maschile. Però a un certo punto alcune donne iniziano a portare avanti una sorta di rivoluzione. Esatto. Sì, sì. Allora, in realtà posso, vado io. In realtà, sì, soprattutto pensiamo agli anni 60 e 70 del Novecento, sulla scorta delle lotte per i diritti civili. Quindi si afferma questa volontà parallela delle donne di trovare il loro spazio anche in quello che è l'ambito della creatività, influenzate da un'atmosfera, un clima di maggiore libertà da questo punto di vista, che proveniva dagli Stati Uniti d'America. Quindi le donne si trovano contemporaneamente o quasi contemporaneamente a lottare per il diritto alla famiglia, anche in qualche modo all'aborto, a rivendicare uno spazio che è anche quello appunto della creatività, in un ambito in cui esiste una sorta di associazione tra la parola genio e la parola uomo. Creatività diventa sinonimo di uomo fino a quel momento, o quasi sono pochissime le donne che riescono a emergere. Negli anni 70 si fanno anche degli studi su quella che era stata la componente femminile nell'arte, viene ad esempio ricordata, riportata alla luce attraverso studi di settore, la figura di Artemisia Gentileschi, di cui fino a quel momento si conosceva l'esistenza, ma fino a un certo punto erano molti i lati oscuri del suo essere artista, del suo essere donna, del suo essere ribelle, nonostante visse nel 600, oscurata da quella che era la presenza ingombrante di artisti come Caravaggio, ad esempio. Quindi il femminismo diventa, si declina anche come arte, anche se c'è da fare forse una precisazione terminologica in questo senso. Alessia, scusami se ti interrompo, sai che sento un crepitio, ho paura che quando ti muovi i capelli torno il microfono. Scusami, perfetto, non si sento più. Ok, proviamo. Comunque interrompimi pure se è disturbata la linea. Quindi dicevo che a premessa di questo ci tenevo anche a fare una precisazione terminologica, perché diciamo che spesso si tende a dire femminismo, arte femminista, e invece la femminista art, l'arte femminista appunto, come viene poi tradotto in italiano, è qualcosa che è legato maggiormente alla contemporanea militanza attiva delle donne artiste, che non è sempre un dato così scontato. A livello di percentuale questo accade appunto soprattutto in America, in Italia accade rare volte, soprattutto negli anni 70, ma sulla scia di quelle proteste molte donne si dichiarano femministe, anche se poi non sono femministe militanti, comunque lavorano sui temi che sono appunto quelli di rivendicare spazio nell'ambito della creatività, nei musei, nel mercato dell'arte, perché anche il problema del mercato diventa rilevante dal momento che i quadri delle donne vengono venduti a fatica, a un prezzo minore rispetto a quelli degli uomini, e vengono accusate anche di una sorta di dilettantismo. Le donne però si battono a tutti i costi, e questo voglio sottolinearlo, per passare da oggetto dell'arte, quindi donne ritratte dagli uomini, a soggetto. Ed è bellissima un'espressione di Carla Lonzi, che è una delle critiche d'arte attive in questi anni, che dice che le donne sono un soggetto imprevisto, vogliono diventare un soggetto imprevisto, e far parlare di sé, esprimere la loro creatività, che è altrettanto alta quanto quella degli uomini, e non è dilettantismo, o non lo è necessariamente, e neanche necessariamente legata a tematiche come quelle della famiglia, come quelle di un ambito prettamente inquadrato come femminile. Infatti queste artiste utilizzano le forme della performance. Sullo scenario internazionale la performance è un linguaggio imprevisto, anche in questo caso, che è in grado di scioccare in qualche modo, suscitare uno scalpore diverso da quelle che sono le classiche arti visive di pittura e scultura, che comunque in qualche modo affrontano questi temi. E vorrei poi parlarvi infatti di artiste emblematiche in questi campi, appunto, pittura, scultura e performance. Chi sono queste artiste che emergono in questi anni? Che nomi possiamo fare rispetto a queste artiste che si appropriano di nuove forme di arte, che possiamo dire arte militante? Allora, i nomi potrebbero essere tantissimi. Ne scelgo alcuni a titolo esemplificativo. Mi viene da pensare nell'ambito della scultura a Niki Desenfal, che è un'artista francese, che tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta inventa questa figura che lei chiama Nana o Nanà. L'etimologia è un po' dubbia, c'è chi lo associa a un termine inglese, chi spagnolo, chi è etimologicamente derivato dall'ebraico, comunque qualcosa che riguarda in qualche modo la donna, la nonna, la maternità. Sono figure, Niki Desenfal era un'autodidatta, aveva lavorato come modella, però si rende conto che sulla donna gravano dei pregiudizi estetici. La donna appunto è considerata un oggetto e deve essere sempre impeccabile, al massimo della sua forma, e sessualmente appetibile. Così lei realizza queste nanas come figure opulente, figure botteriane, potremmo quasi definirle, in cui il viso è appena accennato. La stessa cosa per quanto riguarda gli arti, i piedi, le mani, mentre c'è un'empatizzazione del seno, del ventre, del sesso, a indicare questa femminilità dirompente che però non rispecchia quelli che erano considerati canoni dell'epoca. E sono comunque figure molto gioiose che indicano proprio la libertà della donna e c'è una critica molto visibile, evidente, al patriarcato. Che la stessa artista poi voleva far presente anche attraverso una serie di sue performance, che sono precedenti all'invenzione delle nanas, e sono i tiri. tiri in francese, sono dei veri e propri spari su pannelli in cui erano attaccati dei sacchetti con dei colori, ed erano uno sfogo vero e proprio dell'artista, contro il patriarcato, contro anche un rapporto un po' particolare, combattuto, che aveva col sesso maschile per sue vicende biografiche. ed è quasi, appunto, può essere associato queste sue performance all'action painting di Pollock. Era una vera e propria azione liberatoria e di protesta. Ma le nanas in assoluto sono quelle che rispecchiano maggiormente la sua lotta per gli ideali considerati ecco femministi, del femminismo militante. Quindi in questo caso, in considerazione dell'aspetto estetico della donna. Che vogliamo, queste nanas, in verità, possono anche rappresentare una sorta di ricongiungimento a quella che era l'arte neolitica della dea neolitica, che era la dea della bellezza, la dea che indicava l'ideale estetico della femminità, che era fuori da quelli che sono i nostri canoni, fuori dai canoni occidentali, un po' stereotipati della bellezza da modella, no? A cui siamo abituati nella contemporaneità. Tra l'altro, stavo provando a proiettare la foto che mi ha mandato Alessia, ma ovviamente funzionava fino a 30 secondi prima di iniziare la diretta. Riproviamo. Così magari diamo un'idea anche di cosa stiamo parlando. Allora, vediamo se funziona adesso. Come aveva funzionato? Eccola qua. Sì, questo è proprio l'anno della realizzazione delle prime nanas, quella infatti è un esempio di figure che addirittura Anikide Senfal poi porterà su scala ambientale. in Toscana realizzò insieme all'allora marito il Giardino dei Tarocchi con queste sculture proprio a grandezza monumentale e abitabili addirittura. E questo è un esempio per darvi un'idea di quelli che erano i colori vivaci e proprio questa gioia di vivere in un certo senso, questa voglia della donna di liberarsi, di esprimere tutta se stessa e questa è un'installazione permanente nella stazione centrale di Zurigo e periodicamente viene restaurata, spolverata e proprio nel primo lockdown ha subito uno di questi restauri ed è stata recentemente riposizionata. Bellissima. Quindi questa diventa poi arte pubblica, fruibile. E la cosa interessante è che le artiste vogliono agire nel sociale per le artiste da questi anni in poi anche per far sì che si sviluppi un senso critico nella cittadinanza. Per questo gli anni 70 sono gli anni in cui l'arte esce anche fuori dagli spazi deputati del museo per interloquire in modo più diretto con un pubblico che è variegato che non è necessariamente di addetti ai lavori. Diventa più democratica. Esatto. Invece Francesca dal punto di vista dell'architettura non so se ci vuoi raccontare un po' come si è l'evoluzione e soprattutto chi sono le donne che sono protagoniste di questo movimento o di questa novità. Allora, sì. Alessia ha detto una parola democratico. Mi vorrei riallacciare proprio a questo termine perché l'architettura nel novecento tende a diventare un'architettura più democratica e le donne due donne in particolare di cui parlerò oggi una è Charlotte Perriane e l'altra è Gaolenti hanno dato un forte contributo a questa democraticità dell'abitare. noi pensiamo che le rivoluzioni nel campo dell'architettura chi conosce un po' l'architettura ma comunque per cultura generale siano dovute ai grandi nomi maschili prima e fra tutti appunto Le Corbusier l'archietto più famoso in assoluto poi chi sanno che all'interno del suo studio lavorava proprio questa ragazza una ragazza di 25 anni Charlotte Perriane che nasce ai primi del novecento e questa ragazza nella suo entusiasmo giovanile decide di portare i suoi disegni di alcuni oggetti di design proprio a questo grande maestro che in quel periodo stava cercando di rivoluzionare il mondo dell'abitare perché? perché si voleva cercare di dare un'abitazione a tutti un'abitazione salubre un'abitazione moderna una macchina per abitare erano belli gli anni bene era una rivoluzione perché? perché si stava passando dalla concezione dell'abitazione dell'Accademia delle belle arti quindi quelle abitazioni fatte in mauratura continua con mura molto spesse buie piene di decorazioni alle abitazioni moderne più economiche ma che potevano essere possedute da tutti anche dalla classe operaia la Perriam decide che questa è la sua causa che lei vuole dedicare la sua vita alla costruzione di un modo di abitare diverso e in maniera assolutamente incosciente va nello studio di Le Corbusier e le porta ai suoi progetti e Le Corbusier le risponderà noi qua progettiamo architettura non decoriamo cuscini nel senso che la ragazza era appunto una donna una giovane donna negli anni 20 in una Parigi molto misogina dove si si realizzavano grandi avanguardie artistiche ma i nomi sappiamo tutti essere per la maggior parte solo maschili quindi una ragazza che decideva di fare design veniva considerata una in grado di decorare cuscini per l'appunto mortificata va via dallo studio di Le Corbusier che però ha modo di guardare i suoi progetti e se ne innamora perdutamente capisce che questa ragazza ha una genialità incredibile e da quel momento inizia un sudalizio che durerà praticamente per circa 25 anni poi la Perriand andrà a Tokyo viaggerà per il mondo avrà un grande successo soprattutto nel finale della sua vita ma i suoi anni più creativi e le sue opere più importanti di fatto risalgono a questo periodo in questi la prima volta che io ho conosciuto le opere della Perriand è stato durante un corso universitario durante architettura degli interni stavo studiando il catalogo di uno delle delle dei marchi di mobili più importanti d'Italia che è Cassina che per gli addetti del settore per gli urbanisti per gli architetti è un marchio importantissimo tutte le grandi case della grande borghesia si fanno con i mobili di Cassina e c'è una sezione dedicata ai mobili realizzati appunto dalle Corbusier cioè la sezione LC bene se si clicca all'interno dei tavoli io ho mandato alcuni di questi erenti ho mandato dei tavoli dei tavoli anche colorati il tavolo del taglio ad esempio condividiamo così se cliccate tuttora adesso nella sezione di nella sezione di Cassina LC i disegni e i progetti della Perriand vanno sono catalogati sotto LC sotto i progetti Le Corbusier di fatto la Perriand lavorava con Le Corbusier con Jean Ré che era il cognato di Le Corbusier lavoravano insieme nello studio ma è dimostrato anche perché La Perriand fu una grande scrittrice pubblicò diverse cose ma anche Le Corbusier stesso lo dichiarò che quelli queste opere sono state progettate assolutamente dalla Perriand qual è l'aspetto su cui voglio fosoffermarmi siamo nel 1920 ci sono si sono stati pubblicati agli studi recenti lei è proprio Sherrod Perriand già in fase più matura diciamo allora vorrei soffermarmi su un dato circa il 42% degli architetti laureati con abilitati alla professione il 42% sono delle donne quindi quasi il 50% quasi la metà ovviamente negli anni 20 non era così questa è la lampada pipistrello di Gaulenti mentre prima ancora questa è invece la poltrona LC della Perriand sono oggetti di design che adesso in qualsiasi negozio di arredi si trovano perché continuano ad essere prodotti riproposti perché sono di una modernità straordinaria questi tavoli sono di una modernità straordinaria sono veramente iconici senza tempo e se consideriamo l'epoca in cui sono stati progettati erano veramente avanguardistici ritornando alle percentuali quasi la metà degli architetti sono donne in media percepiscono il 57% di paga inferiore rispetto agli uomini nel 2020 e 20 allo stato attuale il premio Pritzker che è il premio Nobel per l'architettura che è stato ideato per la prima volta nel 1979 ha dovuto aspettare ben 25 anni prima che un premio Nobel prima che questo premio Pritzker venisse ideato a una donna che la donna a vincere dopo è stata l'archistar Zadid che ci ha lasciato da qualche anno e che ha operato anche a Milano ha progettato diverse tipo la torre Zadid a City Life Bene immaginate se la situazione attuale degli architetti donna è così adesso nel 2020 immaginate cosa doveva essere nel 2020 quali ostacoli incredibili dovevano superare chi decideva le donne che decidevano di appropingarsi a questa professione quello che invece io vorrei sottolineare è nonostante la difficoltà nonostante veramente il coraggio l'innovazione che riesce a portare Charlotte nell'architettura e nel design cioè riusciamo se voi avete visto prima le immagini la modernità incredibile dei materiali dei colori delle forme la sua opera più iconica la più importante perché è diventata veramente simbolo del design in assoluto è la famosissima Charles Long la foto tra l'altro che io ho proposto come copertina della rubrica di oggi era proprio la Perriam sdraiata su questa Charles Long la Charles Long è un manufatto di design incredibile che è un misso tra una sedia ad ondolo tradizionale e la sedia che si utilizzava negli studi medici quindi è una commissione tra industria e tradizione materiali innovativi tondi d'acciaio soprattutto un sistema meccanico che permetteva di scivolare tranquillamente semplicemente inclinandosi con la forza del corpo e di fatto lei disse questo io credo che questa foto sia estremamente moderna è modernissima considerate una cosa l'architettura è una forma d'arte un po' particolare perché deve unire alla bellezza la venus deve unire l'utilitas e la firmitas cioè deve stare in piedi deve essere utile a qualcosa quindi è una forma d'arte un po' particolare perché non deve essere fine a se stessa ma deve avere uno scopo e nel design lo scopo è proprio quello di poter avere un oggetto bello un oggetto piacevole da avere è un oggetto che però sia comodo che si possa utilizzare e che diventi intramontabile la Perian con le sue opere c'è riuscita sicuramente bellissimo posso fare un commento sulle opere della Perian e anche sulle opere che abbiamo visto di Niki De Senfal allora Niki De Senfal rende il corpo della donna una realtà abitabile e la Perian si riappropria della possibilità di creare delle abitazioni democratiche cioè c'è proprio l'idea che dell'abitabilità di cui queste donne cercano di riappropriarsi secondo quelli che sono però le istanze del tutto innovative di un appunto di un'arte militante che è estremamente di genere estremamente connotata come arte di genere cioè è veramente interessante questo aspetto grazie di queste di averci fatto conoscere queste due artiste incredibili grazie incredibili 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 e tornando invece alla questione della performance della body art e degli altri strumenti artistici di cui le donne iniziano ad appropriarsi cosa succede in questi in questi ambiti di fatto le donne lavorano sul proprio corpo cercano di scardinare quella che era la credenza per cui ecco come dicevamo prima il corpo deve essere una vetrina e basta quindi lavorano sul proprio corpo affrontando quelli che sono i problemi sociali che affrontano nella realtà di quegli anni e figure emblematiche per quanto riguarda la performance sono ad esempio Gina Pane che abbiamo proposto come immagine di copertina dell'evento ma possiamo anche citare Yoko Ono e Marina Abramovic che sono tra le artiste più note su scala internazionale prima di tutte Yoko Ono che questa artista giapponese nota come anche compagna di John Lennon già nel 65 realizza una performance che si chiama questa è Gina Pane questa è la performance di Gina Pane questa è Yoko Ono e prima di tutte realizza questa performance che si chiama Cup Peas in cui lei è seduta su un palco e invita il pubblico che diventa spettatore ma anche attivo quindi parte integrante dell'azione artistica invita il pubblico con delle forbici ad agire sul suo corpo sul suo abbigliamento essenzialmente proprio dimostrare a far riflettere su quella che era la situazione della donna in quel momento come oggetto tra virgolette di cui far uso una donna che doveva restare impassibile e accettare il proprio ruolo nella società e quindi alla fine della performance Yoko Ono resterà in biancheria intima perché il pubblico inizialmente timido dopo pochi minuti insomma inizierà a tagliare gli abiti di dosso finché qualcuno arriverà persino a tagliarle il reggiseno ma lei a quel punto bloccherà l'azione non mostrerà i suoi seni cosa che invece faranno altre artiste dopo di lei metteranno in vetrina la propria nudità ma per veicolare dei messaggi sociali è il caso ad esempio di Marina Abramovic che prende proprio ispirazione da questa performance di Yoko Ono e la porta all'esasperazione se possiamo vedere un'immagine successiva Marina Abramovic qualche anno dopo siamo già nel 74 quindi quasi dieci anni dopo mette a disposizione del suo pubblico esattamente come aveva fatto Yoko Ono non un oggetto però ben 72 oggetti benevoli in qualche modo e anche pericolosi tra cui appunto delle lamette è una pistola carica e invita letteralmente il pubblico a usare questi oggetti sul suo corpo dando libero sfogo alle proprie pulsioni e in questo modo Marina Abramovic vuole far vuole ragionare e portare avanti una ricerca che è su un duplice piano perché non riguarda soltanto la situazione femminile e il ruolo di subalternità della donna nella vita e nell'arte ma anche quelle che sono le pulsioni nascoste nell'uomo nella gente in generale nella società quindi lei dichiaratamente de-responsabilizza il pubblico cosa che non aveva fatto Yoko Ono perché aveva fermato il reggiseno che le stava scivolando di dosso e de-responsabilizza il pubblico e addirittura arriva a farsi tagliare con delle lamette scrivere con rossetto sulla pelle finché si creano delle vere e proprie fazioni nel pubblico tra chi difende questi questi oltraggi al corpo della donna chi li incentiva invece finché l'azione viene interrotta perché si crea una rissa nel momento in cui un membro del pubblico punta alla testa di Marina Abramovic la pistola carica che era comunque messa a disposizione del pubblico quindi quello che dimostra Marina Abramovic è che dopo un momento di timidezza iniziale come era accaduto durante la performance di Yoko Ono certe pulsioni nell'uomo sono irrefrenabili e comunque in qualche modo si continua a fare un certo uso del corpo della donna che in questo caso però rimane dichiaratamente immobile su Cube perché c'è più una volontà di studio delle reazioni del pubblico e dell'inconscio del pubblico quindi c'è una componente psicologica un po' più approfondita più forte rispetto a quella che era la performance di Yoko Ono e tra queste due performance ho voluto collocare quella di Gina Pane che appunto fa da copertina al nostro evento che è di un anno precedente rispetto a quella di Marina Abramovic si chiama Azione sentimentale e in questo caso il pubblico era esclusivamente femminile entrambe le performance sia quella di Marina Abramovic che abbiamo appena presentato che questa vengono presentate in Italia quindi sono artiste di fama internazionale o che comunque iniziano ad affermarsi su scena internazionale che svolgono queste performance dirompenti in Italia un'Italia legata a quelle che erano le arti tradizionali in cui la performance fatica un po' di più ad affermarsi proprio per il passato pesante che è importante che l'Italia ha alle spalle rispetto a quello degli Stati Uniti d'America ad esempio e quindi Gina Pane vive questa performance come un martirio rifacendosi quasi a quelle che erano le martiri del cristianesimo proprio per mostrare quella che era la situazione della donna di sofferenza ma anche di accettazione di questo dolore che in qualche modo diventava catartico però e quindi lei si inizia la performance seduta con un mazzo di rose bianche sul proprio sesso e dopodiché inizia a ferirsi con le spine delle rose il mazzo di rose viene sostituito con un mazzo di rose rosse e comincia a tagliarsi le mani con una lametta e qui c'è anche tutta una simbologia legata a quello che è il sangue della donna al tabù del sangue mestruale è tutto un immaginario che ruota intorno a questa caratteristica del genere femminile e qui diventa appunto un'azione forte che vuole proprio scioccare e provocare un pubblico di donne e invitarle all'azione a prendere consapevolezza di quelle che erano le problematiche sociali che si trovavano ad affrontare le donne ad agire in questo senso unite quindi ecco un'arte femminista se vogliamo in questo senso anche se non è sempre attiva a livello politico non si scende sempre sulle piazze però si vuole come dicevo prima attivare un senso critico nella società a tutti i livelli e anche all'interno dello stesso genere femminile grazie Alessia anche rispetto a questi temi di cui ci hai raccontato io ho due commenti da fare il primo è che grazie ai vostri stimoli sono andata a studiare come una pazza ieri e negli scorsi giorni e leggendo la biografia diverse biografie su Yoko Ono mi sono resa conto che veramente lei è un'artista completa e straordinaria ben prima della sua relazione con John e questa cosa mi ha veramente molto fatto messo un po' allo specchio di me stessa rispetto al pregiudizio contro cui le donne si sono spesso battute di essere definite moglie di madre di figlia di infatti Yoko Ono è un'artista veramente eclettica tanto che lo stesso John è stato colpito prima ancora di conoscere Yoko proprio dalla sua arte perché era un'arte estremamente innovativa estremamente catartica come stavi dicendo tu prima e un critico ha definito Yoko Ono la più grande artista sconosciuta proprio perché lei ha fatto tantissimo ma di lei si conosce il nome senza la qualità dell'impatto rivoluzionario delle sue opere della sua militanza poi dichiarata perché insomma Yoko Ono rispetto al fatto che si è sempre battuta per i diritti umani per i diritti anche delle donne eccetera ne ha fatto una bandiera però è più conosciuta la sua tra virgolette forma politica che non la forma artistica e questo insomma anche come autoconsapevolezza mi ha fatto un po' riflettere è stato uno spunto critico molto interessante e poi rispetto a questi corpi che nelle performance e nella body art vengono scarnificati riappropriati volutamente oggettivizzati io riporto una riflessione di cui avevo scritto tempo fa sul blog le donne nella porta accanto cioè queste donne cercano di sradicare quello che è il pregiudizio ancestrale sulla femminilità che ci deriva da Aristotele Aristotele cosa dice che uomo e donne sono ontologicamente differenti all'uomo compete tutta la parte intellettuale politica e la politica era il più alto livello di speculazione a cui il genere umano poteva ambire proprio perché l'uomo aveva un rapporto più mediato col proprio corpo non era così vittima di quelli che potevano essere i flussi mestruali il parto la menopausa eccetera quindi la donna che sentiva di più questo suo legame con la materia con il corpo veniva quasi concepita come una forma di bestialità quindi l'uomo evoluto spirituale intellettuale a un livello alto la donna a un livello quasi di fiera di bestia regredita al mondo della natura e queste donne cosa fanno del loro corpo che per millenni è stata la fonte del progiudizio di genere una gabbia in qualche modo è stato se ne rappropriano in maniera così forte in maniera così dura anche in maniera anche quasi di mortificazione personale quasi un segno di abbandono di questo corpo che diventa la zavorra che ci ha fatto essere per millenni di serie Z rispetto a a quella che era l'evoluzione dell'umanità quindi veramente davvero interessanti questi questi aspetti grazie comunque il corpo che ha reso la donna depositaria di un altro ruolo nella nella società nel mondo magari un ruolo di 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 gestione della famiglia di insomma altre mansioni di cui comunque di questo pregiudizio soffrono molto le artiste che lavorano nell'ambito del femminismo si accostano al femminismo tant'è che molte di loro come già accadeva anche negli anni settanta come già accadeva a Yoko Ono negli anni sessanta subiscono il pregiudizio dell'essere mogli di perché alcune di queste artiste sono mogli di artisti ma appunto vengono questo pregiudizio e vengono relegate più a ruolo di diremmo oggi di manager curavano gli affari del marito i contatti con i galleristi e le loro opere non venivano considerate alte e innovative al punto da essere messe sul mercato dell'arte è il caso già della moglie di Kandischi o di Pollock molti anni prima molti decenni prima ma è anche il caso negli anni settanta di Marisa Merz che è la moglie di Mario Merz un rappresentante dell'arte povera che addirittura non venne neanche inserita dal critico d'arte Germano Celant tra l'altro recentemente scomparso che è il critico dell'arte povera proprio nella mostra e nel volume che inquadra l'arte povera come movimento di quegli anni quindi sono figure che faticano molto a farsi apprezzare anche dalla critica da una critica però disegno maschile perché in realtà ci sono molte critiche diverse critiche d'arte donne che si associano esiste un vero e proprio associazionismo di critiche d'arte e di artiste sia in America che in Italia che portano avanti le istanze dell'arte al femminile in America abbiamo ad esempio Lucy Lippard che è una femminista militante in Italia c'è la figura di Carla Lonzi che insieme a Carla Cardi che è un artista formano un vero e proprio movimento di rivolta femminile negli anni 70 fondano questo movimento e portano avanti le istanze dell'arte al femminile finché Carla Lonzi deciderà che portare avanti le istanze dell'arte al femminile significa comunque dialogare con l'uomo e volersi omologare all'uomo artista per cui arriva una crocevia in cui decide di portare avanti le istanze del femminismo ma separando l'ambito del femminismo dall'ambito dell'arte e quindi porterà avanti solo quelli che erano i valori sociali associati al femminismo si separerà da tutto quello che gira intorno all'arte e Carla Cardi invece porterà avanti questo ragionamento nel mondo artistico fondando una cooperativa di artiste a Roma parliamo della Roma degli anni 70 che si chiama Cooperativa del Beato Angelico la cui mostra inaugurale mette in esposizione un'opera fino a quel punto considerata inedita di Artemisia Gentileschi perché iniziano una serie di studi su questa figura così rivoluzionaria e quest'opera per la prima volta viene mostrata al pubblico pochi anni dopo verranno pubblicati anche gli atti del processo a cui partecipò Artemisia Gentileschi in seguito allo stupro che aveva subito fu una delle prime donne della storia a portare in tribunale una causa di questo tipo quindi c'è la voglia anche di scavare quelle che sono le origini degli atti di ribellione femminile a 360 gradi e di voler proprio documentare a livello storico è sempre quello il punto attivare una coscienza critica ci tengo tantissimo a evidenziare questo aspetto perché dal mio punto di vista deve essere questo il ruolo dell'arte lo dico anche da insegnante perché sono fermamente convinta che l'arte è in grado di scatenare un senso critico non indifferente di svegliare le coscienze abbiamo perso Alessia oddio abbiamo perso Alessia non vi vedo più ci siete? ho perso la connessione per un attimo adesso ti sentiamo ti sentiamo ti sentiamo mi sentite? sì ma la vedete ragazze? ferma di vederla no la vedo ferma ragazze Alessia sei tornata Alessia ascolta dato che ci siamo fermate un attimo dato che ci siamo fermate un attimo attenzione sempre al microfono perché avrei iniziato a crepitare non so se ho parlato da sola finora no 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 per un secondo ma sei ritornata stavi parlando di quanto è importante per te il senso critico che l'arte può suscitare anche proprio rispetto al tuo ruolo di docenti di storia dell'arte e sì perché spesso a scuola l'arte è banalizzata in qualche modo sentite? si si sente un po' crepitare e credo che quando ti muovi scusate no spesso c'è un pregiudizio per quello che riguarda l'insegnamento della storia dell'arte per cui si insomma si concepisce solo come qualcosa di storico che non può avere necessariamente un'attinenza rispetto all'attualità rispetto a un ragionamento critico allo stimolare una coscienza critica e quello che succede negli anni 70 che sono anni più vicini a noi chiaramente relativamente all'argomento che stiamo affrontando ci dimostra invece quanto l'arte è in grado di scuotere le coscienze appunto soprattutto le tendenze degli ultimi anni che sono quelle dell'arte pubblica poi infatti a questo proposito riagganciandomi a quello che dicevi prima anche delle due artiste che hanno scelto chi di continuare a tenere legate alla parte di femminismo e arte e chi invece di scorporarla e prima quando parlavamo delle performanze artistiche di O'Kono e Marina Bramowicz mi è venuta in mente questa cosa nel senso che così l'arte diventa politica perché di fatto come negli anni 60 e 70 i movimenti di piazza occupavano con il corpo lo spazio fisicamente così hanno fatto anche queste donne e a un certo punto forse il rapporto tra arte e politica non dico che diventa quasi inscindibile però l'arte è un fortissimo strumento politico come dicevi tu anche per svegliare le coscienze e quindi chiederei anche a Francesca se anche nell'architettura ci sono dei movimenti che portano questa commistione quasi tra arte e politica o comunque degli strumenti per risvegliare il dibattito politico attraverso l'architettura basti pensare alle grandi opere architettoniche del passato cioè non si può pensare all'architettura scissa dalla politica intanto perché non si può fare architettura come si fa per esempio come si dipinge un artista può essere libera di dipingere ma non può essere libera di costruire un edificio ha bisogno di finanziamenti di sovvenzioni inoltre l'architettura è sempre stata utilizzata come manifesto del potere ci sono basti pensare per esempio all'architettura barocca l'architettura barocca fa della magnificenza delle facciate dell'urbanizzazione delle città dei quattro canti delle città barocche quelle strade che incrociavano le magnifiche città basti pensare a Roma a Palermo che hanno questi centri barocchi splendidi proprio il manifesto della loro potenza più la famiglia nobiliare era potente più il clero i nobili o la nuova borghesia era potente più voleva far vedere la potenza attraverso l'architettura quindi ma oppure basti pensare ai templi le città le grandi città della Magna Grecia della Grecia utilizzavano i templi non solo per dovere religioso ma proprio per dimostrare la loro grandezza rispetto alle altre città quindi non si può pensare ad architettura senza politica e questo rende ancora più difficile il ruolo delle donne nell'architettura perché è ovvio che se hai bisogno di un finanziamento politico se hai bisogno di uno sponsor esterno per poter realizzare i tuoi progetti se sei donna è molto più difficile è molto più difficile nel passato adesso lo è molto di meno negli anni non abbiamo quasi non abbiamo memoria di architetti donne del 400 del 500 abbiamo iniziamo ad avere alcuni alcuni nomi che emergono nel 900 dove appunto iniziano le prime lotte civili le prime le prime riflessioni sulla parità di genere e quindi ed è soprattutto il primo secolo in cui alle donne viene data la possibilità di studiare architettura che è una scienza difficile dove entrano in gioco fisica statica matematica e quindi è una forma d'arte che si deve per forza esprimere all'interno dell'università del sapere accademico e lo si vede anche lo si vede anche davvero questo connubio incendibile fra quella che è l'azione architettonica e il legame con la politica ma dirò anche di più io credo che l'architettura e di questo sono sempre stata fermamente convinta abbia un valore sociale e civico importantissimo se pensiamo a come le architetture o le città influenziano la nostra vita uscire ogni giorno percorrere la stessa strada la differenza che fa tra farlo in una strada dove ci sono degli edifici architettonicamente validi o meno abitare in una periferia piuttosto che in una zona curata da un punto di vista urbanistico fa differenza perché cambia la vita delle persone cambia la vita delle persone perché educa la bellezza in una maniera che in cui noi non ce ne rendiamo neanche conto ma era un po' quello che facevano gli architetti che hanno cercato di dire anche gli architetti del novecento quanto parlavamo prima di nuova forma d'abitazione nuova forma di design è proprio questo se io posso vivere in una casa dove mi entra luce la mia qualità della vita è diversa se io posso avere l'acqua corrente a casa la mia qualità della vita è diversa e questo lo hanno fatto sicuramente l'ha fatto la Perriana ma l'ha fatto anche Gaolenti ti interrompo un attimo per dire a chi ci ascolta che Elena Esposto ha proprio scritto un articolo su questi argomenti su le relazioni di genere e l'urbanistica proprio settimana scorsa Sexism and the city proprio come l'organizzazione della città funzionale a certe dinamiche di genere passa a creare degli squilibri che vanno a colpire proprio il mondo femminile quindi vi invito a leggerlo sì è molto interessante ed è una questione aperta questa ma non parlere purtroppo le nostre città hanno dei punti critici importanti che non vanno a penalizzare solamente la differenza di genere ma anche la differenza d'età ci siamo mai interrogati se le nostre città sono a misura di bambino io avrei dei dubbi su questo qua si apre un mondo enorme infatti questo con voi è un assaggio perché io ve l'ho detto ho così tante curiosità che questo è un primo incontro ma appena siamo un po' più tranquille ragazze vi rinvitiamo perché a parte il fatto che una ragazza è quasi passata un'ora io ho 20.000 domande sono le 19.53 quindi immaginate vi aspettiamo prossimamente io vi chiedo se riusciamo a parlare ancora di Gaia Ulenti e poi dell'arte contemporanea e poi ci diamo appuntamento a presto a questo punto dai volentieri sì perché veramente sono delle pillole queste degli spunti di riflessione magari per approfondire poi più in là eh sì cercherò di essere rapidissimo anche perché ho voglia di sfalsare un po' la mia scaletta perché mi avete suggestionato con l'idea della città una delle piazze più importanti di Milano si chiama piazza Gaia Ulenti e io ci vedo la volontà di una città di omaggiare un architetto figlia della città perché Gaia Ulenti nasce nel 27 in una regione del sud Italia per poi salire giovane a Milano dove si studierà il Politecnico e lavorerà in diverse riviste di Milano lavorerà a Casabella Continuità che è una delle riviste Casabella è una delle riviste architettura più importanti forse la più importante del settore è strano come la città di Milano voglia renderle omaggio ma in un certo questo senso secondo me si vela anche di una sorta di ipocrisia perché è sicuramente un architetto molto famoso sicuramente riconosciuto a livello mondiale ma non lo è come molti suoi coetanei che invece che in quegli anni lavoravano con lei lavoravano anche in concorrenza a lei in alcuni concorsi erano rivali e che sono diventati più famosi basti pensare a Gio Ponti al gruppo BBPR lo stesso Renzo Piano che vengono definiti archistar nessuno mai ha definito Gaolenti un archistar l'unica 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 perché sicuramente per il suo tono sempre molto elegante molto molto anche discreto perché faceva parlare la sua architettura al posto suo era una donna molto caparbia molto che ha avuto successi incredibili ha realizzato veramente opere in tutto il mondo e se parlavamo dell'oggetto di design con la Perriam poi possiamo parlare invece dell'opera grande dell'opera magniloquente quindi parliamo dall'oggetto P passiamo dall'oggetto piccolo all'oggetto in grande scala perché Gaolenti fa biblioteche fa scuole fa musei ma si occupa anche di design prima era stata proiettata la lampada pipistrello che poco fa avevo acceso la televisione e gli stavano intervistando ultimamente a periodo di grandi interviste in tv si vedono le case delle persone c'era proprio un luminare un medico che aveva la lampada pipistrello esposta e si vedeva perché sono quegli oggetti che diventano iconici in particolare la lampada pipistrello si riallaccia a uno stile che viene chiamato un linguaggio meglio un linguaggio neoliberty perché riprende delle forme appunto tipiche del liberty quindi il linguaggio floreale le linee morbide che richiamano la natura ma reinterpretate in chiave moderna perché lo fa perché Gaulenti ha una profonda convinzione la profonda convinzione è quella che si deve innovare ma si deve innovare studiando bene il territorio il genus loci la storia quindi non innovare per innovare ma innovando partendo da delle matrici cioè avendo dei punti di riferimento ben definiti che di fatto è il segreto del progettare bene perché adesso siamo nell'epoca diciamo gli anni 20 del 2000 e lo saranno anche gli anni 30 del 2000 sono gli anni della mega architettura alla frangheria alla zadid queste linee spaziali queste linee queste forme che si possono tranquillamente innestare in Lombardia a Milano a Parigi a Roma a New York e sono delle forme estemporanee che vanno bene in qualsiasi città bene Gaulenti non progetta così Gaulenti progetta studiando in ogni dettaglio la città la storia l'oggetto applica lo stesso metodo per le piccole cose e per le grandi cose bellissimo ed è una cosa è una cosa importante perché perché ti dà una maniera colta di progettare non progettare per progettare o progettare perché perché ci sono le mode ma progettare secondo un senso e il senso deve essere lo studio della luce lo studio dell'esposizione la storia del luogo utilizzo un materiale o ne utilizzo un altro prendo una forma o ne prendo un'altra perché faccio queste scelte ecco secondo Gaulenti l'arte del vivere del progettare doveva basarsi su questo e una delle sue opere secondo me più emblematiche è il Museo d'Orsei che è un'opera straordinaria che ha fatto lei è un'opera straordinaria che ha fatto lei cioè la ristrutturazione anzi il riadattamento di un'antica stazione del Novecento riadattata a museo una concezione di museo assolutamente nuovo intanto lei rispetta la struttura la rispetta è come se utilizzasse la struttura come se fosse una scatola e al cui interno fa degli innesti per poter progettare la visita museale che viene intesa in maniera diversa ovvero non una carrellata una passeggiata di quadri infiniti ma una sorta di esperienza di passeggiata esperienziale in cui è il visitatore stesso a scegliere qual è il suo percorso e quale tipo di attenzione darà un'opera rispetto a un'altra ovviamente non è l'unica sarà è la tradizione diciamo di Carlo Scarpa quella di intendere il museo e l'esperienza della visita al museo in maniera così personale in maniera così veramente vissuta guardate che belle che sono questi sono gli innesti in bianco e in grigio si vedono i suoi innesti che sono praticamente perpendicolari alle mura e ai binari della stazione dell'antica stazione è una stazione del novecento e all'interno delle rosette studierà un modo per fare la reazione all'interno del museo quindi anche un'opera tecnologicamente avanzata dove veramente c'è uno studio incredibile che tra l'altro Gaolendi riesce a realizzare vincendo un concorso internazionale quindi assolutamente meritocratico non per agganci non per conoscenze ma perché vince un concorso e secondo me in quest'opera si vede tutto il suo essere donna intellettuale cioè lo studio intellettuale che c'è dietro l'opera che si vede anche dalle sue collaborazioni appunto con Casabella che è una rivista di architettura che non si limita non si limitava nel passato semplicemente pubblicizzare il progetto architettonico ma in cui è reviscerata la pianta la sezione del progetto non vorrete addiarvi con i tecnicismi ma un progetto di architettura per essere apprezzato bisognerebbe vederlo sempre in pianta in sezione i 3D le foto ne fanno vedere sempre l'aspetto sintetico dell'opera ma l'aspetto sintetico funziona se funziona bene l'aspetto analitico quindi la pianta la sezione innalzato e in piano e poi è una cosa che secondo me rende bene l'idea di come ha affrontato la sua carriera Gaolenti è una frase è una frase che secondo me riassume benissimo il suo concetto l'architettura è un mestiere per uomini ma ho sempre fatto finta di niente meraviglioso secondo me è una frase sintetizza la plomba e la cultura di questa donna perché di fatto ha fatto questo tra l'altro ha lavorato anche in collaborazione con Renzo Piano con Rogers quindi anche con architetti molto importanti che la stimavano molto però facendo sempre finta di non proclamando il suo essere donna come un vestillo come un handicap ma facendo finta di niente andava avanti lei progettava e la sua abilità nel progettare l'ha portata avanti come la Perriam eh sì eh sì vi faccio una domanda per salutarci ahimè ed è qual è l'eredità di tutti questi movimenti e di queste grandi personalità femminili nel campo dell'arte e dell'architettura che cosa abbiamo oggi come forma femminile di riappropriazione di questi campi allora sicuramente dal punto di vista dell'arte si continua sul filone della performance ma pensando alla scala pubblica eh mi piacerebbe chiudere questo incontro parlandovi delle guerrilla girls che sono attive su scala internazionale che operano proprio nella città infatti è un gruppo che nasce nell'85 e nel 1985 è tuttora attivo conta più di 55 membri tutti femminili tutte donne che non hanno rivelato non rivelano la loro identità eh tengono una maschera da da gorilla eh in assonanza col termine guerrilla che richiama anche un po' tutto quello che è il guerrilla marketing e eh durante le loro azioni pubbliche eh si chiamano come grandi donne della storia dell'arte tra cui Frida Kahlo ad esempio eh perché per loro è più importante il messaggio che è l'identità delle artiste stesse che decidono di protestare e con quest'opera che è una delle opere più famose volevo riagganciarmi al discorso che eh ai dati numerici di cui ci parlava prima Francesca proprio alle percentuali questo è un poster del 1989 quindi ideato realizzato pochi anni dopo la nascita del collettivo in cui ci dice che meno del 4% delle artiste nella sezione d'arte moderna eh del MET che è un importante museo di New York internazionale eh sono donne ma paradossalmente il 76% delle opere ritrae delle donne nude con uno sguardo prettamente maschile qui infatti mettono eh proprio come segno di protesta di questa condizione della donna artista che in realtà è anche un po' una condizione attuale perché sì le percentuali si sono modificate ma non abbiamo raggiunto eh proprio lo stesso lo stesso livello di importanza all'interno delle istituzioni museali eh in termini numerici degli uomini e quindi inseriscono eh questa odalisca di Angra eh con una maschera da gorilla eh e il loro linguaggio è proprio caratterizzato da questo humor eh loro infatti si divertono a dire che essere femministe non significa non essere ironiche e utilizzano proprio lo strumento dell'ironia eh per svegliare le coscienze torno con con questa frase conclusiva e e quindi attualmente sono attive su scala internazionale addirittura le loro prime affissioni pubbliche nate come protesta anche abusiva un po' come la street art non autorizzata adesso le loro opere sono ospitate in musei del calibro del MoMA di New York o della Tate Modern eh partecipano a festival di arte pubblica eh anche in Italia a Bologna hanno realizzato delle azioni pubbliche eh con i loro manifesti eh l'ultima cosa che mi piaceva citare leggervi delle frasi di un loro manifesto eh in cui elencano i vantaggi dell'essere donna donna artista quindi con estrema eronia elencano tra i vantaggi lavorare senza la pressione del successo non dover partecipare alle mostre con gli uomini essere certa che qualsiasi cosa tu faccia la tua arte sarà qualificata come femminile chiaramente un aggettivo che diventa dispregiativo avere l'opportunità di scegliere fra carriera e maternità di essere inclusa nelle versioni rivedute della storia dell'arte quindi forniscono in realtà eh con grande ironia tantissimi strumenti di riflessione alla portata di tutti in strada nelle piazze e anche online perché hanno un sito web attivo e costantemente aggiornato bellissimo grazie grazie davvero ragazze noi vi aspettiamo presto so che è un momento un po' pieno di impegni per tutte però sono sicura che quando questo momento finirà con successo da parte vostra per tutti i vostri bei progetti noi vi rinvitiamo perché è stato bellissimo davvero mi sono sentita travolta dalla voglia di fare sì è stato un piacere anche per noi veramente credo siamo amati anche tanti spunti di riflessione che appena possibile approfondiremo magari sì assolutamente è stato molto bello è stata come una ventata ad aria fresca è vero sì grazie mille allora come diceva Caterina vi aspettiamo vi aspettiamo anche per una rubrica sul blog se vorrete grazie a tutti che ci hanno seguito fino adesso vi ricordiamo i due prossimi appuntamenti giovedì sera con Roberta Marasco che ci presenta il suo libro Fazzoletti Rossi che è un libro per ragazzi sul tema delle mestruazioni e poi il esatto quello che sta facendo vedere Caterina e invece il 3 di novembre con Francesca D'Aloia che ci presenterà un saggio Corpi Speciali edito dalla nave di Teseo quindi vi aspettiamo e grazie di nuovo Alessia e Francesca grazie mille ciao a tutti buona serata a tutti ciao 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 ciao